È stata dedicata alla comunicazione, al giornalismo, quella di oggi o quasi, vogliamo ricordare un grande vaticanista, un autorevole vaticanista, scrittore, giornalista, ha seguito gran parte dei viaggi dei papi all'estero e Giuseppe De Carli, stato responsabile anche di Rai Vaticano, nonché ideatore, insieme ad un'amica di Padre Pio TV, Elena Balestri, della Bibbia giorno e notte. Abbiamo il piacere questa mattina di essere collegati con la nipote di Giuseppe De Carli, Valentina Pedrini. Buongiorno Valentina, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, prima di scendere nel dettaglio di questo nostro collegamento, sei in un posto molto molto bello e significativo. Dove? Sono nella biblioteca del Collegio San Francesco dei Padri Barnabiti, a Lodi, ed è una biblioteca, peraltro, che ha visto passare anche Giuseppe, perché Giuseppe ha fatto anche un percorso di studi qui al Collegio San Francesco. Ecco, oggi sei... È un posto che contiene un sacco di libri importanti, bellissimi. Stiamo vedendo. Allora, Valentina, a Giuseppe De Carli è stata intitolata a Lodi, frazione Riolo, il 13 gennaio di quest'anno, una strada. Abbiamo anche delle immagini, appunto, di questo momento. Ci racconti com'è nata l'idea di intitolare una strada a Giuseppe De Carli? Allora, sicuramente il volere di questa intitolazione è stato della città di Lodi. Giuseppe è un cittadino illustre, meritevole di essere ricordato e anche conosciuto. È avvenuto appunto il 13 e mi piace raccontarvi che questa via si trova di fianco ad una scuola e questo sicuramente avrebbe reso felice Giuseppe. In più è stata rivelata, come si vede dal filmato che avete fatto scorrere, da uno dei più giovani sindaci, credo, il nostro sindaco di Lodi, e dal mio bimbo più piccolo, che Giuseppe non ha avuto il piacere di conoscere. Giuseppe, si sa, aveva questo piacere nel dare spazio e visibilità ai giovani, quindi anche questo gesto è stato simbolico, che è servito a ricordare la sua modalità. E in più è avvenuta in data 13, sappiamo che Giuseppe è mancato in data 13 e in più aveva una particolare visione sul numero 13, sulla fatalità del numero 13. E quindi anche la data, insomma, ce l'ha ricordato. Una serie di coincidenze, allora, potremmo dire, magari, che in qualche maniera hanno accompagnato questo grande vaticanista. Prima dicevamo, mentre eravamo in pubblicità, che nelle celebrazioni papali era davvero naturale, potremmo dire così, associare le immagini che venivano appunto da San Pietro, comunque dei viaggi del Papa, alla voce di questo illustre vaticanista autorevole, davvero che in qualche maniera ha scritto la storia dell'essere giornalista vaticanista. Allora, Valentina, io ti chiederei qualche ricordo personale di Giuseppe De Carli. Con piacere. Sicuramente essere nipote di un giornalista come Giuseppe De Carli e spiegarvi cosa c'è negli occhi di una nipote necessiterebbe di un tempo, non so, due o tre giorni forse. Ha significato sicuramente averlo visto molto poco, ma aver immaginato tantissimo un tempo che purtroppo non è arrivato, che sarebbe stato il tempo di darsi tempo, di condividere pensieri, parole, anche se credo che poi siano situazioni come questa, che mi permettono di stare ancora con lui, di portare avanti quello che è il suo pensiero e la sua memoria. Io devo dire che per me, da nipote, l'apice dell'orgoglio è stato quando nel 2008 ha concepito la Bibbia a giorni e notte e sono sempre portata a pensare che quello sia stato un momento in cui lui ci ha regalato un po' la sua essenza. E lo penso perché ricordo un dialogo tra me e lui, quando ero poco più che adolescente, anche un po' contestatrice, e lui in questa occasione mi disse, bene, se tu non vuoi leggere la Bibbia come testo sacro, non puoi esimerti dal farlo, pensando come una grandiosa opera letteraria. E quando poi concepì nel 2008, appunto la Bibbia a giorni e notte, mi diede una risposta ancora più grande, 1200 lettori che leggono il testo sacro, 1200 lettori di svariatissima natura, quindi la sua risposta arrivò ancora più forte in questo senso. Diciamo che nei ricordi ci sono, sì, questi ricordi, ma ci sono anche dei ricordi più intimi. Io ricordo la mia nonna, che era la sua mamma, che amava, era adorante, era una donna semplice di campagna, era adorante questo figlio, che nel tempo riempì la casa dei nonni di quadri, lui portava questi quadri, che i nonni appendevano ovunque, era tapezzata la casa di quadri che Giuseppe portava, e poi aveva l'abitudine di portare queste bambole folcloristiche, no? Al ritorno di ogni viaggio arrivava con una di queste bambole che la nonna metteva in vista, quindi la casa era piena di quadri e di bambole portate da Giuseppe. Mi ricordo che quando tornava a casa, la nonna ci raccontava sempre che studiava troppo e lei si arrabbiava parecchio per questa cosa, quindi Giuseppe si nascondeva nei campi e leggeva i suoi libri Nascosto tra l'erba. E tra i ricordi c'è anche il fatto che quando tornava la nonna gli preparava sempre la polenta colozzola, perché a lui piaceva mangiare la polenta colozzola, e si legava a un tovagliolo sempre intorno al collo, e ci teneva, sono tutte cose semplici di un uomo che in realtà aveva una vita anche molto più complessa, ma chi lo guardava da vicino aveva il piacere anche di vederlo come una persona assolutamente semplice e di casa. Ti ringraziamo per aver ricordato anche la Bibbia giorno e notte, che abbiamo avuto il piacere di ospitare anche a San Giovanni Rotondo nel maggio del 2010, questa maratona davvero che ha visto tantissimi lettori alternarsi alla lettura del testo sacro. Non possiamo però non citare un'associazione che porta il nome di Giuseppe De Carli, l'associazione Giuseppe De Carli che ogni anno promuove anche un premio a livello nazionale, Valentina. Io sono veramente molto grata all'associazione nelle persone di Elisabetta Loiacone e di Giovanni Tridente, sono veramente felice del fatto che sul loro percorso, nel momento in cui è stata fondata nel 2012, l'associazione abbiano pensato a me e mi abbiano trovata, sarei stata altrimenti orfana di un'iniziativa importantissima. L'associazione porta avanti in modo esemplare il ricordo di Giuseppe, la sua etica e il suo modo di fare informazione religiosa. e per questo sono molto grata a Elisabetta e a Giovanni, veramente. Allora, grazie di cuore Valentina per essere stata con noi. Ti ringraziamo perché ecco in qualche modo quando ci siamo sentiti al telefono mi hai detto guarda Paola io non sono molto pratica di collegamenti, faccio un po' fatica anche a raccontarmi e a raccontare i miei familiari, però ti ringraziamo di cuore per averlo fatto soprattutto per Padre Pio TV. Grazie davvero di cuore. Grazie, grazie molto a voi, grazie, buona giornata. Ciao, ciao Valentina, grazie. Valentina Pedrini, nipote dell'autorevole vaticanista Giuseppe De Carli, che abbiamo ricordato oggi grazie anche alla frazione di Riolo, all'Odi che gli ha dedicato e intitolato Una strada. È una figura importante a cui tanti di noi si ispirano, tanti che noi lo facciamo ovviamente perché siamo su Padre Pio TV, ma davvero il suo esempio di giornalista è valido a 360 gradi. Dunque grazie ancora alla nipote di Giuseppe De Carli per avercelo ricordato, alla vigilia della festa del Santo Patrono dei giornalisti, che ricorderemo appunto domani. Adesso ci dobbiamo fermare per la pubblicità, perché Nicola Morcavallo è pronto per i primi aggiornamenti di giornata. Ci fermiamo qualche istante e poi ancora insieme. Grazie a tutti.